Avvolta in un tappeto e gettata in strada. È stata ritrovata così, priva di vita, una donna di origini extracomunitarie legata all'interno di un tappeto persiano su via Vicaria Vecchia, all'angolo con Vico Scassacocchi, nel quartiere napoletano di Forcella. L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti del Rione che intorno alle 7 di questa mattina hanno notato l'ingombrante tappeto che lasciava intravedere qualcosa al suo interno a pochi passi dai cassonetti dei rifiuti. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura, le ambulanze del 118 e della Croce Rossa. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna di età apparente tra i 15 e i 20 anni. Dalle prime indagini della Polizia non risultano segni evidenti di violenza sul corpo e non si esclude che la morte potrebbe essere stata causata da overdose. In ogni caso qualcuno si è voluto disfare del corpo della vittima e sono in corso le indagini affidate ora al commissariato di Polizia Vicaria e alla squadra mobile.